Inizia così con le immagini della festa di Nuova Don Luca, l'organizzatore Stefano Scala che consegna nelle mani del capitano Marco Marini. Eccola qui, tutta la squadra schierata, sono loro che alzano al cielo la Coppa, i campioni della terza edizione della zona Pontina League edizione estiva hanno battuto nella finalissima, una finalissima che vedremo fra poco, molto equilibrata, bellissima, giocata sul filo dei nervi, hanno battuto questi, i pluricampioni di autocarrozzeria Bonpan, due volte vincitori della zona Pontina League estiva, vincitori della zona Pontina League invernale, insomma pluridegorati, pluricampioni messi mai in discussione. Fino alla serata finale di questa zona Pontina League estiva, eppure Nuova Don Luca ha dovuto faticare e parecchio per scardinare la resistenza di un autocarrozzeria Bonpan che nel primo tempo parte anche bene con due occasioni per Mario Tiberi, poi questa di Cesare parata in qualche modo ha evitato il gol davanti alla linea di porta di Nuova Don Luca che aveva risposto con Abbenda. Questo è Marini, il suo sinistro, la palla sulla testa di Marino di poco alta sopra la traversa, un primo tempo come abbiamo detto molto equilibrato che si chiuderà 0-0 grazie anche alle parate dei due portieri protagonisti. Questo è Micinilli su Paolo Corbucci che chiude lo specchio della porta, due portieri protagonisti per tutto il corso del primo tempo ma anche nel secondo lo vedremo. Ancora Corbucci impegna Micinilli che blocca e poi quest'altra parte con Marini che prova ancora di sinistro, bravissimo Amerigo Cifra, anche lui sarà uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo di questa finalissima. È Paolo Corbucci a mettere paura a Micinilli, quindi un primo tempo molto equilibrato che Autocorrezza e Video Bonpan prova a sbloccare anche con questi tiri della distanza di Cesare, ancora Micinilli, poi la palla rimbalza fuori. Siamo nel secondo tempo che inizia così con questa spettacolare azione di Mario Tiberi, la girata in acrobazia, palla sulla traversa ma poi arriva lui. Bogdan Bulboaca e cambia completamente il volto alla partita, inizia da qui una lunga e costante pressione sotto la porta di Cifra, Cifra che è spettacolare, strepitoso su questo sinistro di Riccardino Quaresima. Ancora Quaresima che apre per Marini, poi ancora Bulboaca, Marini e ancora Amerigo Cifra da sotto l'incroce dei pali, arriva Quaresima, ancora lui con il sinistro, palla fuori. Non ce n'è per Nuova Don Luca, sporadici gli sprazzi in avanti di Autocorrezza e Video Bonpan ci prova soprattutto con insistenza Tiberi che ha la grossa occasione sul sinistro, dopo aver vinto due rimpalli la palla esce di un soffio ma ricomincia il monologo di Nuova Don Luca. Qui ancora Quaresima con il suo sinistro arriva Bulboaca, il destro ma Cifra è qualcosa di spettacolare, una sala cinesca, una porta chiusa davanti alla rete di Autocorrezza e Video Bonpan. Siamo da quest'altra parte, dicevamo sporadici i lampi ma sempre pericolosi, Zofrea, impegna Micinilli dopo questa bella azione di rimessa di Autocorrezza e Video Bonpan. Siamo nei supplementari perché il primo tempo si chiude 0-0 quindi siamo da quest'altra parte con Nuova Don Luca che non smette di premere anche nei supplementari e c'è questo spettacolare Eurogola di Bogdan Bulboaca. Un destro con l'aiuto del palo entra, non può nulla stavolta Cifra, si sblocca l'incontro, è l'incontro che prende una piega decisa, quella che porta verso la Nuova Don Luca, la vittoria della Nuova Don Luca. Perché non saprà reagire l'Autocorrezza e Video Bonpan che si salva solo grazie ai miracoli di Cifra che alla fine vincerà anche uno dei premi della Top 5 per quanto riguarda i giocatori protagonisti di questa terza edizione della zona Puntina League. Siamo ancora da quest'altra parte, ancora Cifra che blocca in due tempi su Marino che era stato bravissimo di destro a cogliere al volo questa assistenza di Bulboaca, Bulboaca che fa questo gol spettacolare. Tre finte, quattro finte, tutte con la suola e poi diagonale di destro a battere Amerigo Cifra che non può nulla. Finisce così con questa altra magia di Bogdan Bulboaca, questa terza edizione della zona Puntina League estiva, appuntamento naturalmente all'anno prossimo sui campi di Nuova Don Luca. Tutto targato zona Puntina punto com